Benvenuti sul Calle, le anticipazioni, della puntata di venerdì 13 ottobre, di My Home My Destiny ci mostreranno un Megdi, sempre più determinato a non rinunciare a Zeynep. Mentre Megdi è disteso esausto nella sua officina, dopo essere stato, pesantemente picchiato, da Buran, ed dai suoi uomini, Nasli cerca di mettersi in contatto con lui. Ma le sue chiamate rimangono senza risposta. Di fronte a questa situazione, Nasli decide di rivolgersi a Zeynep e le chiede di cercare di raggiungere Megdi, il suo ex marito, che non risponde al telefono da diverse ore. Inizialmente, Zeynep sembra riluttante a collaborare con Nasli, e chiude la telefonata rapidamente. Tuttavia, le tensioni e le emozioni in gioco, tra questi personaggi promettono di rendere la puntata di venerdì, 13 ottobre di My Home My Destiny piena di colpi di scena e sorprese. Tuttavia, le tensioni e le emozioni in gioco tra questi personaggi promettono di rendere la puntata di venerdì 13 ottobre di My Home My Destiny piena di colpi di scena e sorprese. Mentre Varys, ascolta, Kibrit esercitarsi al violino. Si rende conto del suo innato talento e decide di fare un gesto gentile regalandole uno strumento musicale per permetterle di continuare a praticare a casa. Nel frattempo, a casa di Zeynep, Sultan e Demine si trovano alle prese con la preparazione del cibo per il loro primo servizio di catering. Cominciano a preoccuparsi del fatto di non riuscire a preparare tutto in tempo, dato che il matrimonio per il quale sono state assunte si terrà la sera successiva. L'organizzazione lascia molto a desiderare, poiché non hanno ancora stabilito un menù specifico e non sanno nemmeno le giuste quantità delle porzioni da servire. Sakine cerca di offrire il suo aiuto, ma i suoi consigli non vengono presi in considerazione. Sultan, presa dal nervosismo, la invita a uscire. Nel frattempo, Kibrit arriva a casa ed è accolta da Sakine e Nermin. La ragazza mostra subito loro il violino regalatole da Varys. Solo Nermin sembra apprezzare il gesto, mentre Sakine è contraria. Ritiene che un regalo così costoso a una ragazza non sia opportuno, soprattutto se il donatore è Varys, che inizia a vedere come un ostacolo nell'amore tra Zeynep e Magdi. Dopo l'avvertimento di Nasli, Zeynep comincia a preoccuparsi seriamente per Magdi e si dirige immediatamente all'officina di lui. Mentre cerca di chiamare Magdi sul cellulare, si accorge che c'è qualcosa che non va. Il telefono di Magdi squilla all'interno dell'officina, chiusa a chiave. Dopo diversi tentativi falliti di entrare, Zeynep decide di chiamare immediatamente la polizia. La polizia, insieme a Zeynep, riesce finalmente ad aprire l'officina e trova Magdi esanime e sanguinante. Senza perdere tempo, chiamano un'ambulanza. Nel frattempo, Sakine è profondamente preoccupata per Zeynep, che non è ancora rientrata a casa. Dopo aver cercato di convincere Nermin a cercare la figlia, Sakine, sempre più angosciata, decide di chiamare Zeynep direttamente. Tuttavia, scopre che sua figlia è già in ospedale e viene informata dalla figlia della grave situazione. Sakine si precipita anch'essa in ospedale, seguita da Sultan e Nermin. In ospedale, Zeynep ha l'opportunità di parlare con Magdi e con i medici che lo stanno curando. Le condizioni di Magdi non sembrano gravi, ma è notevolmente ferito. Zeynep sospetta immediatamente che dietro l'aggressione ci sia Buran e cerca di convincere Magdi a denunciarlo, ma lui esclude questa ipotesi. Nell'ospedale, anche le altre donne della famiglia di Magdi, Sakine e Sultan, augurano a Magdi una pronta guarigione e si mettono a disposizione per qualsiasi necessità. Tuttavia, Nermin sembra contrariata dalla presenza di sua figlia in ospedale. Dopo aver lasciato la stanza di Magdi, Nermin cerca di portare via Zeynep, scatenando una discussione con Sakine. Nermin è convinta che Zeynep debba rimanere fuori dalla vita di Magdi in qualsiasi circostanza, mentre Sakine si sente in debito nei confronti di Magdi e lo considera ancora parte della famiglia, credendo nell'amore tra lui e sua figlia. Nonostante le obiezioni di Nermin, Zeynep decide comunque di rimanere in ospedale accanto a Magdi. Questa decisione è fortemente contestata da Nermin, che esprime la sua preoccupazione. Nermin non si fida di Magdi, avendo scoperto che l'uomo la stava seguendo ovunque, temendo che la situazione possa rapidamente degenerare in una probabile aggressione fisica. La tensione tra le donne della famiglia cresce, con punti di vista contrastanti sulla situazione. Per Sakine, il fatto che Magdi segua la figlia non sembra essere un problema significativo. Ritiene che la gelosia sia una caratteristica comune negli uomini e non si allarma più di tanto. D'altro canto, Nermin è incredula di fronte alla mancanza di preoccupazione di Sakine, e si arrende di fronte alla difficoltà di conciliare le loro opinioni contrastanti sulla situazione. Zeynep e Magdi trascorrono del tempo nella stanza dell'ospedale, ma la comunicazione tra di loro è limitata. Zeynep sembra a disagio e Magdi cerca nuovamente di farle capire che ha capito i propri errori. Le confessa di aver contribuito a farla assumere nello studio legale, avendo inviato il video della sua laurea a Baris per convincerlo a riassumerla. Zeynep è profondamente turbata da questa rivelazione e, sentendosi a disagio, decide di prendere una boccata d'aria all'aperto. Tuttavia, dimentica il suo cellulare nella stanza dell'ospedale. Magdi coglie l'opportunità e inizia a controllare il cellulare di Zeynep, cancellando alcune foto che li ritraggono insieme, sebbene non trovi nulla di compromettente. Nel frattempo, riceve un messaggio da Baris che stabilisce un appuntamento con Zeynep in un hotel il giorno successivo. Zeynep, accorgendosi di aver dimenticato il cellulare, torna indietro per recuperarlo. Arriva giusto in tempo per non notare che Magdi ha già controllato il suo telefono. Magdi finge di dormire quando lei rientra in camera, e lo gli copre gentilmente con le coperte. Nel frattempo, mentre le altre donne sono tornate a casa, Nermin decide di chiamare Baris per organizzare un incontro il giorno successivo e discutere della complicata situazione tra Magdi e Zeynep, che la preoccupa profondamente. Sultan ed Eminet, nel frattempo, sono ancora alle prese con le preparazioni per il catering del giorno successivo. Tuttavia, a tarda notte, decidono di abbandonare l'impresa a metà, rassegnandosi al fallimento. Nella prima mattina, Zeynep finalmente si addormenta vicino al capezzale di Magdi. Quando lui si sveglia, gentilmente le rimbocca le coperte e le dà un bacio sulla fronte. Magdi si sente felice di averla così vicina, ma è anche consapevole del fatto che non sono più una coppia. Quando Zeynep si sveglia, controlla subito il cellulare, e Magdi vorrebbe trattenerla per parlare, ma lei si affretta ad andare all'appuntamento con Baris. Nel frattempo, Sultan ed Eminet si svegliano, dispiaciute per aver abbandonato il loro sogno aziendale ancora prima di iniziarlo. Tuttavia, quando arrivano in cucina, trovano tutte le portate preparate e pulite. Avevano precedentemente rifiutato i consigli e l'aiuto di Sakine, ma durante la notte, Sakine ha provveduto a preparare tutto, non potendo restare inattiva di fronte alle difficoltà delle sue amiche. Le donne sono commosse dal gesto di Sakine e decidono all'unanimità che sarà parte integrante della loro nuova azienda alimentare. Questa decisione riempie di orgoglio Nermin, che ha sempre creduto nelle capacità culinarie di Sakine. La solidarietà tra le donne si rafforza, e insieme si preparano ad affrontare le sfide che li attendono nel mondo degli affari culinari. La situazione è davvero complicata per Magdi. Mentre segue Zeynep e Baris fino all'hotel, vedendo la loro complicità, diventa sempre più furioso e contrariato. È tentato di intervenire, ma improvvisamente si imbatte in un incontro inaspettato, Byram. L'uomo si trova in pessime condizioni, chiedendole lemosina e in uno stato evidente di confusione mentale. L'istinto di Magdi è messo a dura prova in questo momento cruciale. Deve decidere se seguire Zeynep e Baris all'interno dell'hotel per affrontare la situazione o fermarsi per controllare lo stato di Byram. La scelta che farà avrà un impatto significativo sulla sua storia con Zeynep e sul destino di Byram. Cosa farà, Magdi, in questa situazione intricata? Andrà incontro a Byram, il padre di Zeynep bisognoso e in difficoltà, o seguirà Zeynep e Baris nell'hotel? Il suo cuore lo porterà verso la compassione e l'aiuto, o l'impulso della gelosia prevarrà? E voi, cosa fareste in una situazione del genere? Che scelta fareste di fronte a un video così importante? Siamo curiosi di conoscere la vostra opinione. Non dimenticate di condividere i vostri pensieri nei commenti qui sotto. Continuate a seguirci per scoprire quale strada Magdi deciderà di percorrere e quali conseguenze avrà sul destino di questi personaggi. Grazie per averci accompagnato in questa avventura emozionante. Non perdetevi il prossimo capitolo di questa storia, dove il destino è in bilico e le scelte sono fondamentali. Alla prossima!